Infatti, mamma mia, 4 settembre. Meglio tardi che mai di prenderlo, vero raga? Però ho già fatto 7 ore e 29, eh? Cioè, il tempo è volato proprio. Mamma mia. Tengo ancora delle richieste. Eh, vabbè, nel Matrix dell'anima. Che cavolo c'ho la voglia di fare sta roba? Sì, raga, io non penso che mi metterò a fare tutte le missioncine, eh? Secondare. Beh, c'è sempre il canale YouTube, Markup. Lì puoi recuperare tutte le live che vuoi. C'è una vastissima scelta, proprio uno Luke Knight. Ora, esploro la linea centrale e trovo a Manghezzo. Mamma mia. Quanto tempo è passato? Già mi sono dimenticato dove eravamo rimasti. Linea centrale abbandonata. Che bel posticino accogliente. Sembra di stare tipo alla metropolitana di Napoli a mezzanotte. Stessa esperienza. Eh, Ringo è bangata a tanti, Ruby. Vabbè, Vincent dopo che... Ha una visione tutta. La sua del distretto a luci rosse. Che succede? Ah, vero, il nemico sta lì. Si può scendere, scusatemi? C'è qualcosa che mi sta sfuggendo? Ah, bisogna usare le scale! Sì, però che cavolata, eh! Ok, questo non si apre da questo lato. No, è inutile andare. Sì, l'avevo notato, Crystal. Facciamo due tiri, possiamo usare questo come palla. Marchio di un guaritore. Vuoi solo tenerelo? Va bene, due tiri ce li faremo la prossima volta. Allora, qualcuno mi deve spiegare come cazzo ho fatto a mancarli. Oddio! Cioè, così di colpo mi danno il fanservice? Che poi, se vi ricordate, l'ho anche creata, eh! Mamma, e che danni che fanno! Qua devo curare per forza. Fantastico! Quelle sirenette ci faranno un po' il culo. Se subisce un attacco con sonno, non potrei giri, ma recupererai leggermente il PvP e il M2. Ah, tipo Snorlax dai Pokémon! Durante il sonno, i personaggi supereranno maggiori danni d'attacchi fisici con armi da fuoco e dalle tre... Tre... Treggende. Il fattore di sonno può sparire dopo un certo numero di turni, ma anche se è trattato con abilità... ...origeno oggetto, ok. Ok. Qualcuna tra le presenti in chat vuole fare il cosplay della sirenetta? E non è quella della Walt Disney? Grazie! Grazie! vabbè sono morti tutti e tre ok abbiamo imparato squama di una megera fammi cura un po va ok christa non è fisica adatto secondo me le uniche che hanno il fisico adatto sono stefi e giade io questa impressione a lui non può fare un cavolo all'oro bello tre sirene porca miseria ah comunque non avevo imparato l'abilità prima avevo tutto l'oggetto squame della megera già mi immagino le squame che l'abbiamo staccate nella zona del seno per un che c'è un ecco buonasera buonasera vabbè meglio tardi che mai no il saluto troppo facciamo poco e nulla così no condormina e moon il tritore beh quella almeno è un'ottima alternativa sarebbe meglio accopparla quella vabbè giade a me sembri magra onestamente poi magari mi sbaglio però io purtroppo ho la panza quello è il cavolo del guai vabbè che mark up conosci giade ma che altra squame ho ottenuto ah ma posso capito sei fidanzato di giade giusto siamo stati persuasivi il mio fascino è irresistibile come la carne di qualità eh volete che mi unisca a voi sembra una seccatura oh ma c'è una mia amica con te allora ti lascio in buone mani ma come annaccia cioè io mi ero anche incesinato a crearle e potevo ottenerla gratis eh vabbè potessi pure che il ragazzo è venuto a fare da guardia raga tipo guardia del corpo no firmo ok ok oh no me ne ho fatti due che senso vincent no se giù già ce l'hai ottenito i soldi ma non è che ottene esperienza per lei non so se era questo quello che volevi intendere ok ok mi ho ottenuto ingordigia servirà qualcosa si ho capito che c'è il nemico un attimo il membro pazzo dell'accia ah ringraziamo l'ognomo che ci dà i soldini oh 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 mi sembra di avere una nipote anche se in realtà ho trovato solo pochi spiccioli beh già lì può essere l'inizio di qualche entai no? il nonnino con la nipotina ok ci vuole la chiave fisica no più che altro mi ha stupito come mai markup si sia presentato proprio oggi quanto qua tengo oggetti che non sto minimamente usando fin dall'inizio di questa serie ma dai ma che hitbox di berda e vabbè qua abbiamo pure ignomi eh zio ero fermo al nonnino si regala questa battuta non ha funzionato questa abilità che palle si facciamolo fuori ah ok vabbè mark nessun problema anche se come potuto ben vedere qua più che vtuber femmina qua c'è più una vtuber trap quindi è per gusti molto raffinati 69 di nano eh mi fa piacere neanche che ci ha fatto caso con la magica cifra vabbè l'abbiamo fatto JPM è qui ok andando lei dorme tranquillamente beata lei ah attacchi a Oe eh poi vediamo un po' perché qua sto vedendo che la situazione è abbastanza tragica ah tragica Grazie a tutti Ma che bello Mi piacciono i momenti così Scegli un'abilità Ah proprio come i pokemon Questo cosa fa? Tolgo dia vai Ah ora ti piacciono pure le trap Markup come funziona Ci sta ruby che è un grandissimo fan delle trap Quindi potrete andare sicuramente d'accordo Oddio Jack Frost E' la trentesettesima volta che qualcuno cerca di ingaggiarmi Sattiamo tutti convenevoli E parliamo d'affario No come il livello è troppo basso Dici di alzare il tiro Chissà di cosa stava parlando Ehi niente Jack Frost per ruby Vabbè Qua ho capito che ormai con l'hitbox faccio cagare Grazie a tutti Ah ti piace Markup E mi fa piacere E tu immagina Che dovresti vederla come in full body Sì perché lei è praticamente un amico Una sacerdotessa del tempio Che poi ho pensato di fare Anche la sua versione estiva Quando sarà il momento Tipo Con il cappellino di paia Il pareo In costume I sandaletti Quindi molto fanservice Questo anche per far piacere Agli amanti dei piedini Parfaraccio girai Per sapere che cazzo è quello che ha tradotto il gioco in italiano Cioè che cazzo i nomi strani Vabbè Oh almeno questo ci ha curato E' quello il problema Ruby E' sempre una cosa in più Ah buono abbiamo questo nuovo teleport No Qua c'è il boss No raga Devo curarmi assolutamente Cioè col cavolo che vado in queste condizioni Allora Andiamo al rifugio Sì vabbè Poi mi danno Ringo Che si mette così Ma mettetemela Dall'altra parte Così le vedo il ciulo Ma no aspetta Magari se sto fermo Me la fa vedere più da vicino Vediamo un po' Vabbè intanto questa Degli airbag Ecco Ecco Guarda Guarda Ruby Guarda che belle chiappette Eh però comunque Non te la mettono Dall'altra parte Bisogna un po' Accontentarsi Ah poi Poi ci sta l'altro Che sta a guardare il suo culo Cioè ragazzi Veramente ti guarda il culo Ma è assurdo Eh Beato lui Allora Cosa possiamo mangiare Eh questo era ottimo Tratta birra Cazzo A sapere non l'avrei preso prima Le patate sancio Proviamo Amentiamo anche l'intelligenza Queste patate al forno Sono buonissime Sono la specialità Della mancia E sopra c'è uno sciroppo Dolcissimo Ah si raga Come sempre vedete C'è altro sciroppo Che non ci assicca niente Con le patate Ringo Sempre con la pizza Sono davvero squisito E sarà per via Del metodo Di rosolatura Su pietra Come si potrebbe Attenere lo stesso effetto In casa Ok Possiamo andare A metterle sopra A delle pietre in spiaggia Per avere Lo stesso effetto Allora sì Attualmente Tengo stream labs Però dovrebbe esserci La possibilità Anche con stream elements Ciao Yoro Come va Hai visto Sto continuando Il tuo gioco preferito Pieno di spoiler No tu basta Che clicchi direttamente Sul bannerino Sull'immagine Come aspettiamo E vediamo No no Interveniamo Ok così Dai spazzola L'immaginazione Yoro Ok Affrontiamolo Insieme al suo bel demone Farei prima lui Onestamente Vediamo Che culo Pure immune E vabbè Dal Tengu Me lo dovevo aspettare Buono Me lo rego Qualcosa Quei debole Poi ciao Sussurro Del vent Procede bene Finalmente ho ripreso A streamare Dopo un bel po' di tempo Cavole Che danno Ad attacchi Con sparo Vediamo No Non mi è sembrato Però vabbè Meglio di nulla Vabbè Questo Questo è morto Dai Ah Debole All'attacco Normale Dunque l'abbiamo Fatto pure Questo è l'importante Che senso ragazzi Questa cosa Dalle sub Perché ammetto Che non sto leggendo Ma porca miseria Sì Solo Huggers È stato Cioè Questo Solo Huggers Dove è stato Veramente Non posso dire Cioè Una bella cosa Che l'abbiano Resumato Però Il fatto Che l'abbiano Fatto fare Un altro team Cioè Si vede Perché è anche A basso budget Sì sì DLC Ho preso Il pacchetto Completo Ma veramente Quando il sonno Funziona Veramente Ho Pinto Che manca poco Ho capito Cazzo Grazie per il sogno Molto positivo Nei miei confronti Ok L'abbiamo sconfitto Vabbè Dalla sua morte Non ce ne fregherà Pulla Assolutamente Eh Scarlet Nexus È caruccio Però Non l'ho mai Non l'ho mai iniziato Ce l'ho solo visto Giocare da qualcun altro Beh perché Neku c'è la spiegazione Il tizio non aveva Un volto disegnato No Più che altro Non hanno forse Voluto switchare Ok Devo trovare sto Manghezzo Grazie a te Pazzo 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 Il dottore Ciao Maria Buona scuola Eh bravo Ruby Ho perfetto non dillo Però ci hai pensato tu Di certo non La chiave l'amico Cioè ma lei ora ci pensa Sare i demoni per cercarlo Mannaggia la cotoletta Ah Vabbè proseguiamo Non ho dovuto ritornare indietro Ah poi voglio dire anche una cosa Ne voglio approfittare Quando ho fatto Vabbè l'unboxing di Di Rena dai Kurashi E poi di quell'altra figure Molto gnocca Che gioca Letteralmente in lingerie Che viene da un gasha Giapponese Poi quando ho fatto Un unboxing più elaborato Su Rena E ho caricato tutto Su Instagram Twitter Youtube I qui presenti Tipo Ruby E Crystal Oh Non pensavo Che avessi fatto io Quel video Perché era troppo Fatto bene Grazie mille Per la fiducia E dato che abbiamo I Jack Frost Vabbè Saranno sicuramente Debole al fuoco Sì I Green Echo Non hanno assolutamente Fiducia Nelle mie caracità Sì Era banalissimo Raga quanto sono Insopportabili Fammi curare Fanno dei danni assurdi Sì Col Thompson Sì sì È tipo un mafioso italiano No 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 Che culo Guarda Ririn Sembra un'edizione limitata E me lo dice con quelle belle tettine Ricordo Totem E per Ririn il generante 2 Ma io non sono superficiale Non perdo la testa per le mode Ah Cioè dovevo tornare Ma pensate Sì sì sono proprio nel formato Come piacciono a me Sussurro a me non piacciono le tette troppo grosse Infatti per questo preferisco Le asiatiche Alle occidentali C'è ma devo trovare l'amico Magari ce lo farà vedere Fare incontrare lui Vabbè Nulla di interessante E sì ragazzi Perché dovete tenere conto Che poi con l'avanzare dell'età Chi ha le tette troppo grandi Poi diventano Mozzerilina affumicata Oddio Oddio Questo lo voglio Bello per sto pazzoide nel team Ti servirò fedelmente Sono un anestetista folle Rumor Praticamente un insetto disgustoso E intanto l'amico però Non lo troviamo Ci sta una mia cugina Raga che tiene 43 anni Però se la vedete Sembra che ne abbia 20 E però Il seno ovviamente Si è un po' Sgonfiato Non so come posso dirlo Sapete com'è l'età Comunque colpisce tutti E lei si è fatta Si è rifatto il seno Con il silicone Poi lei comunque È molto attraente Infatti non li dimostra 43 anni Dimostra una ventina In tutti i sensi E l'altra volta Ecco alla festa di compleanno Di 18 anni Di mia cugina Che sarebbe praticamente La sorella Di questa di 43 anni Questa di 43 anni Si è messa un abito In cui si vedeva Praticamente Tutta la parte centrale Del seno Ovviamente non aveva Manco il reggiseno Mi stupisco come il marito La faccio vestire così Ecco ovviamente Sapete com'è L'uomo da sempre Un occhio lì Cioè se fossi il marito Io Mi sarei incazzato Come un pazzo E' incazzato E' incazzato E' incazzato E' incazzato E' incazzato E' incazzato Ma mia Praticamente Quando sono stato in Giappone Circa 10 anni fa Ho acquistato Un bel po' di materiale In Thai Avrò speso Veramente Un botto di soldi Più di 500 euro Tengo infatti Un bel po' di dojishi Ah il mech nuovo Che hai comprato Io ora Eh a me non dispiacerebbe Avere un mech Mai avuto in vita mia Ma non vedete Che questo qui E' quello che ha trovato L'amico Ecco la chiave Ah insanguinato Quindi l'amico E' pure morto E' probabile Eh infatti E' macchiata di sangue Si leggo qualche Giochino piccantino Eh Allora Ma la chiave Quale sarà Cioè per quale porta Forse è qui Vediamo No se me No se me è Quella porta Ah no è quella porta lì Che cacchio sto dicendo Pure io Vabbè Andiamo di corsa Ah Di corsa Non vi c'è niente Come fuga non riuscita Porca miseria Ma per esempio Sì ad esempio Ho letto School Days Stando per dirne uno Forse la D'o Andiamo Tu Kaah Si Pro Si Allora endas Do Quindi ti servirà praticamente il link di Steam Elements, Neku? Ma sei sicuro e se fate ne penti? Fammi un attimo che riesco a trovare subito questo link di Steam Elements Vediamo un po' Perché tu dici che hai problemi a donare con Streamlabs Fammi un attimo vedere una cosa però Allora aspetta Cioè mo se ti scrivo Cioè mo aspetta Mo ti scrivo direttamente il link Allora questo è Streamlabs Cioè da qui hai difficoltà a donare? Intanto riprendo Ah è proprio difficoltà? Eh no ma il problema sai quali Neku? Ti spiego subito che Probabilmente con StreamElements non partirebbe l'alert Guardate Controllando la cosa Ah beh ma puoi usare sia Paypal che la carta di credito Su su Allora dipende In questo periodo In questo periodo ho streamato veramente poco Anche se il Nintendo sarebbe streamare tutte le sere Anche perché poi uno dei giochi che vorrei tanto portare È proprio tutta la saga di Yakuza Eh lì sono un bel po' di capitoli Così è andato volendo seguirmi per tutto il mondo Eh sto aspettando il nuovo modello virtuale Per iniziare Yakuza Eh da errore capcia Capcia Yora Però non ho capito bene Come mai Gli capita questo errore Ma avrei preferito più le cure Che i soldi eh E invece torno a punch in su In posizione proprio da vampira Ma si sale Oh di dove si va Ah si continua Aspettava un boss Ovviamente è chiuso Quanti cazzo sono Ecco Si sente un gemito dall'altra parte della porta Mica è lui l'amico Che aveva la chiara Ah 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 Nantoka Nani che c'era No, Vincent, faccio difficoltà normale Io devo farli tutti quanti uno dopo l'altro Capì? Ma potassi pure che li faccio al massimo in hard mode Ma il mio intento è farli al 100% Quindi farò tutte le missioni secondarie Tutti i contenuti opzionali Quindi per ogni Yakuza ci metterò parecchie ore Quel cosino volante ne è cui sarebbe la tettona... L'altra tettona viola Che ci sta assistendo da una distanza Un roba uccello Ciao, su, su, buonanotte Alla prossima Tuo caro amico ma dovrei comunque combattere Che bello mio Ma che cosa sia dovuto combattere contro la donna della sua vita? Alla prossima Ragazzi ma più curiosità Tre presenti a chi sta piacendo sto gioco Sono curiosissimo Eh ciao Matt Non lo uso tanto Anzi in generale proprio i social network li uso poco Vabbè Ragazzi qua vabbè discorsi soliti Dobbiamo affrontare il suo amicone Oddio questo è giallo Perchè giallo? Cioè dorato? C'è qualcosa che mi sfugge? Eh perchè brillamo? Magari c'è stata una spiegazione Su questo lucchicchio E ho schippato il testo Ragazzi sono come i pokemon shiny Praticamente Penso Bu Il fatto è che il miso sempre non è buono Ok questo almeno Ha dormito Obbettivo sbloccato Cacciatrice di taglie E ottenuto oggetto libro raro Polveroso Forse si verrà per qualche fusione figa Ve la butto lì No 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 Non fatemi morire Ma che ho trovato sta roba rara Giratischi Si è sbloccato un evento sociale Quando mi curo un po' Riviste sozze Magari sono Sono le riviste giapponesi No? Con le bambine che si fanno il bagnetto in piscina Ragazzi in costume Si perchè in Giappone vendono anche questo Anche se ultimamente la situazione è migliorata molto Vale a dire Che c'è un po' più di controllo Ha un odore strano Evocatrice Che cos'è? Marco guaritrice Si perchè vendono anche quel tipo di rivista Mi rubano le cappesante Oh possiamo ingaggiarla raga Poi manda il contratto al mio indirizzo Oh Mensei Mensei sera Odore di piedi sudati Ecco Quando Quando si parla di piedini Mensei appare sempre Ok è arrivato a E' arrivata Ah ok grazie Mensei Grazie mille per i tre mesi Gentilissimo Mensei Grazie Grazie Spero che sarà una sub Ben spesa Ma qua deve ancora Qua potrei già cambiare in realtà Ti mettiamo Iniziato Prima o poi Lo giocherò Che palle Queste porte chiuse Ok Mandiamo un'altra porta i demoni A cercare la chiave Ah no è quello Vincent Allora è buono Sì finalmente attacchiamo un po' più di nemici In contemporanea Ok qui abbiamo ottenuto il teleport Questo mi fa capire che Dovremmo sfidare qualcuno Vado un attimo al rifugio E' ricevuto hamburger Anguilla Da Saizo E lui invece cosa mi vuole far preparare? Ramen della purezza Per essere Della purezza Ah ecco posso vedere finalmente un po' il culetto di Ringo Per dire purezza vuol dire che Un ramen è preparato che i piedini Ecco Ah finalmente un po' in primo piano No no Mensei L'ho continuato adesso Ah però non è che tiene chissà cosa Però proviamo questo hamburger Anguilla Non pensavo si potesse mettere un'anguilla Nel pane Scivola E che è un pisello Oh no Ci siamo Guardate Mentre ci stiamo ficcando Quest'anguilla in gola Mio Dio Ragazzi mi stai immaginando Allora che si mangiano St'anguilla Queste anguille piangono Almeno sembra Se le stanno anguilla In un unico colpo Uè ciao Reza Grazie mille per i 19 mesi Ok Possiamo riprendere la nostra magica battaglia Mentre abbiamo una bella anguilla Che sartella nel nostro stomaco No mi sto immaginando Veramente Ringo e l'altra Che mentre si mangia Mentre il panino Ringo chiamolo l'anguilla Mamma mia Life boost Mamma mia Vado a scioppare La pubblicità Ragazzi Sì perché Dovete sapere Che Quando ci sa Life train Vado a dire Un sacco di Sub E sub giftate Può partire Questo boost train In poche parole Grazie alla tua community Che spende I Loro soldini Ti possono Boostare Su Sul sito E quindi Avere più probabilità Di essere conosciuto Ecco Abbiamo sprecato Una cura completa Fantastica Mannaggia E l'hanno messo da poco Matt Da settembre Però questo ovviamente È un vantaggio Per i famosi E questi intanto Chi cazzo sono? Avatar Makame Rapace Zen Ma ma sono ripilanti Continua a preferire I demoni Con sembianze Da donne Ok Questo è il demone Vediamo un po' Buffo Buono Cazzo Ci mancava il veleno Sì E poi l'attacco Lui dovrebbe essere debole No Ma strane sempre un uccelli sa che mi conveneva curarla eh attenda non consumare tutti i giga crystal ah è debole bellissimo ma dai ma come cazzo ho fatto ragazzi è rimasto con un hp vaffanculo ok ok cos'è questa cosetta che vuoi darmi ah aumento ghiaccio 3 ora sono più forte ma non sto a metterlo su peso vero? ma so se può servire perché comunque con lei non ho debolezza l'elettricità cioè ragazzi secondo me è meglio schivare l'elettricità o schivarmi si si ovvio rubi da sempre un fisico perfetto basta vedere anche su un bellico tu rubi hai dei suggerimenti? si perché allora io non possiamo vedere un attimo ehm le debolezze a sinistra però la debolezza che ha è sull'attacco normale non è l'attacco armi mi sembro infatti poi dice armi da fuoco ecco però quello là sarebbe la l'attacco normale non dovrebbe essere l'attacco armi da fuoco quindi armi da fuoco non sarebbe un cavolo oh no rubi è giusto si quelle armi da fuoco si ragazzi allora ok lo sostituiamo si eh vabbè questa poi me la vanno a mettere in primo piano in faccia sono cambiato un po' la mia età non ti accorgi più delle piccolezze mazza questo è buono si questo posso toglierlo ecco vorrei darti un regalino speciale si tocchi di vetro si momentano gli spettatori eh Giadi allora si però teni conto che ci sta un demone che si chiama Alice dice che è veramente GG spero di poterlo ottenere il primo possibile intanto sto ottenendo un sacco di equipaggi mentre che sto minimamente controllando oh magari qui rubi l'hanno messa l'hanno messa prima oh cavolo come stavano facendo a panina sì vabbè mira schivata aumentata guardami col cazzo questo qui io me ne vado come ok ce l'abbiamo fatta no ragazzi la sensazione è troppo di svantaggio oh intanto abbiamo Jack Frost lì che faccio di cazzo con Jack Frost ah buono questa era stata giusta oddio figo fighissimo fighissimo sto demone Jacky Loa sì sarebbe un desco con un serpent figo figo un mago che qui ti come c'è un mago c'è un mago e c'è un mago e volendo eh vedi ti ho dato una bella idea porca puttana ora che ha fatto un po' se non mi posso distraere un attimo ahhh ma 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 manca sempre sta stronza che culo che ha dormito vabbè Ruby sembra molto volgare ma non l'avete visto? con il veleno non ti uccide mai cioè rimane sempre con un HP si tolgò schiva fuoco si si avverti una presenza pericolosa intorno a te chiave sporca nooo c'è il boss da affrontare eh sangue a terra spera che non si aggiungerà anche il nostro di sangue eh eh chi è? ah Peto Bear abbiamo raga con i teschi delle loli del loro pancione oh yeah selvaggio babau un orsacchietto da coccolare e abbracciare mentre si va a dormire il regalo preferito delle loli qua secondo me serviva Aki eh mannacciala in serie meno male che questa a me ne è debole meno male non 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 che d'acqua sapere rilassare chunghi siccome sarebbe stato debole pure ad aghi per forza togliamo pochissimo c'è il fa una zucca che si cura pure che figlio di buona mamma eh vai che mossa paura sarei più inclina a ricevere un colpo critico ma vediamo un po' di rimuoverlo ok possiamo l'urz camera di demoni è in battaglia non è quello è il problema e non togliamo nulla aspetta mi cura un po' va ci voleva anche aghi però proviamoci ci mettere un bel po' di tempo però almeno penso che riuscireva a sconfiggerli ah bello sta per che pare la stronza ah bene potrei utilizzare questo però eh però dormire mi serve troppo utile ragazzi ma sono sacchetti tosti cioè a me sembravano degli incojoniti invece sono proprio oppi no maledizione peccato che non so ci do a farlo dormì raga qua devo sapere forse un oggetto e che oggetti di merda che ho curare porca cotoletta c'è proprio a lui tra tutti proprio lui eh sì perché non ho purtroppo preso dei demoni adatti con da sorsacchiotte raga questo oggetto è OP rivisto nei pv di tutti gli alleati a difficoltà normale si può usare quando il gruppo è annientato ah bello quindi visto che io se non ricordo male sto a normale sto quindi giocando in modalità per nabbi che bello prima non riusciremo mai a farlo fuori sì mi muovo lo status non è un'altra volta no ha fatto la combo di Berta ce la faremo voi che dite porca puttana ci ha fatto doppio critico debolezza eh vaffanculo va va bentando Ringo anzi ma non è che di un non è che di una ragazza vergine in un end time ma va bene così eh e vabbè abbiamo weipato raga no ma ma non lo voglio questo oggetto ah giusto ma sarà avvenuto il salvataggio automatico ti prego ditemi di sì sono qua svengo in diretta oh no oh no ah ok ragazzi questo è il punto esatto meno male non lo vedevo più mi sono sentito malissimo ok ok meno male porca miseria ma allora io farei così metto lupi che fa poes ma sì raga poi ci vuole un aghi per forza penso che con l'aghi mi sto messo così da schifo il demone con tarunda aspe demone con tarunda non ci ho fatto caso tarunda ah vero la serena mi intendi questa tiene racunda porra ci dovrebbe tipo toghermi la cura ma poi siamo sicuri che l'or set è debole al aghi ah come vuole andare in giappone vorrei andarci anch'io per ben tre mesi che poi ci sono stato una volta non mi dispiacerebbe di provarci ma ragazzi noi proviamo così vediamo che succede si è stata una bella esperienza vorrei ritornarci ok ti prego fa che sia debole ok questo lo voglio fare un attimo fare che diminuiamo l'attacco vabbè ho scoperto subito necco per fortuna lo sono uno debole pure al veleno buono ah per trovare le 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 cinesine lol in sé madonna ragazzi visto quanto cazzo li danno subito col veleno wow vabbè questa è vinta ok ah l'altro non sono riuscito ad avvelenare mannaggia che peccato si è peccato da tenere conto che alla cenotano milanese ci sono tante belle cinesine no tante belle lol che si vestono in modi molto kawaii se ti portano letteralmente in galera ah l'abbiamo che la 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 Grazie a tutti! Sì ragazzi ho messo attacco automatico tanto abbiamo vinto Ottimo Ragazzi invece di cotone d'un selvaggio avevo letto cordone umbellicale Non chiedetemi il perché Eh sì sì Sono già pronto a cercare tante belle cinesine con le fosettine di venere alla Cenetown milanese Ora cosa mi tocca fare? Andarmene Ritornare al rifugio Mangiare Vabbè forse non c'è neanche bisogno in realtà Sì sì ragazzi continuiamo così Tanto non ho paura di nulla A spazio c'è Jack Frost Vediamo un po' cosa vuole Mica una missione Nooo le missioni E potevi darmele prima E sotto solo potrebbe andare bene Non troppo caldo Non troppo secco Mi va bene Il nuovo fratellino Frost Saburo è allergico ai maiali Un pupazzo di neve allergico ai maiali Non si finisce mai di scoprire nuove cose E lì ci sono tanti Zutunce E Frost Saburo non potrebbe mai viverci Ti prego avvocati Sbarazzati di quegli Zutunce Oh Se sconfiggere Shin Questo posto sarà morto più sicuro Oh Ok ammazziamo i maialini Infatti il fatto è che stavano su questo piano Abbiamo ragazzi per trovare a questi Facoceri Sarà tipo un'impresa Ma forse mi converebbe anche scappare Oh qua morire male Non succederà Più carte per trovare subito i maialini Diciamo staccato automatico Pazza nulla veleno Non è proprio un punto esclamativo È più sta roba Vedi Rubi Sì comunque hai ragione Me ne ero dimenticato Ragazzi ho messo tutto automatico Eh penso il rubinato proprio di staccato Figlia mia Ah qua non ho spiegato a scrivere Mi sei mancata tanto Sono felice di vederti Ora riposti per un po' Te lo meriti Ah sta parlando in Ah non era attiva la sua parte malata prima Ho capito Infatti mi sembrava strano Ok devo ammazzare altri cinque porcellini Io lo fermo a tre porcellini con la storia Ma se le ammazzo e poi me ne scappo Rimarranno conteggiati Chissà Quindi mi chiamassali tutti Ah ok I tuoi genitori tolmano l'orario delle galline Praticamente Ehi Cristal Chissà Chissà Ok, manca l'ultimo Ma presso la Shigui come sono le missioni secondarie? Che penso che ce ne saranno anche lì, no? Cioè ci sono missioncine in cui ti dicono uccidi totta nemici? No, ma che porca miseria! Ah, ma quanto mana che consuma Eh, che ha fatto pure il resisto Mannaggia a me Ah, sono 32? Tutto ciò mi rincuora Sì, perché qua si vede, raga, che è molto più farmoso, eh? È pur sempre molto più legato a un Shin Megami Tensei, eh? Ah, ma che c'è? Ah, ma che c'è? Ah, ma che c'è? Ah, ma che c'è? E ora, ascoltatemi cantare, oh! Ce lo vedo, lo zecchino dovrà fare lo sciottino Almeno lui è contento Ok Andiamo a completare questa missioncina golosa Wow Che ricompensa Meritevole Ma se ve lo mi facevi i cazzi miei Ok Più mini boss, ok? Ho capito, Neku Eh, meno male Oddio Demone simile a un lupo bianco Sto robo Un demone cattivo mi sta molestando Sessualmente Qualcuno gli dà una lezione Ricompensa 8000 yen Va bene Chiamo il Makami Vive in una stanza al piano superiore Mi ha arrivato questo nello La faccia è molto spaventata Senza Ok Quindi devo risalire Allora, vediamo un po' A lupo al lupo Ho incontrato un piccolo Makami Lacrime Il lacrime Il demone Nell'area centrale della linea centrale Nell'area centrale della linea centrale Mi ha detto che un demone dalla faccia spaventosa È arrivato nel piano superiore E lo ha cacciato dalla sua stanza So che in questo mondo regna la legge del più forte Soprattutto se sei un demone Ma far piangere un ragazzino è proprio da meschini Vado a dargli una lezione Ragazzi Il demone è uno sciatino Ma qui non ho credo Dovrebbe stare appena di sopra Ragazzi Poi magari Lo farò Non c'ho proprio voglia di andare a cercare Al piano superiore No, più che altro Potrebbe rompere voi In live Ecco perché Previsco evitare La possa andare di qua pure Ma se questo è uno short cut Fa vedere Il Il babau Ah lo sacchiotto Spero di no Ok questo è uno short cut Si abbe ma quanti sono Porca che cazzo è quel robo Ma è un tapiro Un tapiro peloso Che cazzo è Ah ma è più un mammut Si è più un mammut Finalmente Sto zio Cioè serve a qualcosa Travolo Eh ragazzi ma questa no Tostarelle Lasciamo lì Ringo Solo soletta Stami bene Ringo Ragazzi se volete Lo vado a cercare Il demone Ok In effetti possiamo farlo Anche ora Cioè dovrebbe stare qui Nell'area superiore Ah vero Però dovremmo curarci In effetti Eh vabbè E un'altra volta Si va al rifugio Che bello Si poi vedremo D'andarci a questo Matrix Dove Si farma Ancora di più Allora Cosa possiamo Mangiare Proprio questo Ramen Filan Filantropico Bello che cosa dice Mi piace questo ramen Vedi Le due tizze Col panino Tra che quella lì Che tiene addirittura Le fragole Come contorno Del pane E pagate che stanno a mangiare Uova sode Carne Alla faccia del ramen Il Naruto È a forma di cuore Che carino Forse questo È il sapore Dell'amore Assaporare un'emozione Mi sembra più Una sinestesia Che una tecnica culinaria Un che figa Non ci delude mai I panini con le posate Ma sono ragazze Rubi Devono Mantenere una certa Raffinatezza No Ah ma ci sta la mia ragazza Invece Quando si mangia il panino Lo mangia con le mani Si sporca tutta Di ketchup E maionese Ma perché la mia ragazza Ovviamente non saprà Cos'è la Femminilità Oddio Sta scappando Sto figlio di buona mamma Ah mi sono beccato Pure l'imboscata Eh Ninna nana Ninna o Oh ma non è che Nessuno si è addormentato Dai Nice Ma si messa Senta Eh Usiamo Sukunda Eh Così Schivata Ridotta Quindi può scappare Ditemelo prima C'è un locale da me Che quando Ti porti i panini Ti dà anche dei guanti Da chirurgo Che tu ovviamente Puoi indossare Così non ti sporchi le mani E ma non è che non ci sono L'imboscata Sto trovando il cattivone Dovrebbe stare qui Al piano superiore Però un po' Sì Vediamo qui Ok Non vuoi portare con te Questo piccolo splendore Si vede che ti repudi Già abbastanza affascinante Oh Visto il tuo livello Non so se riesce a riuscire a uccidere Granché Ho cambiato idea Eh Va affanculo Zeno Veramente No ragazzi La prossima volta mangio il cibo Che mi permette di recutare Con più facilità Così magari diminuisce Le requisite del livello Oh Cibo piratato Buono Eh questa volta Non mi scappi Oh no Lo viene colpito Lo strunzo Ah Quindi lui fa Prima di Ninaran E poi fugge Quindi è importante Non fa fare A lui l'imboscata Eh ma qua Sarà facile No Quello può scappare Ah no Non è scappato Strano Forse la fuga È casuale Ma io spero che questo libro Raro polveroso Serve a qualcosa E che devo entrare Tipo in qualche stanza Tipo quella Quella dico A sud-est Oh intanto vedo la sirenetta Cosa vuole darmi Cosa vuole darmi Va bene Poi quando è maleducato Con le gambe aperte In test Mi interessa se mi abbia un mirino Un mirino da cecchino Sarà al tuo fianco Finché uno di noi due Non finisce all'inferno Va bene Sarebbe interessante Utilizzarlo Sarebbe interessante utilizzarlo Sarebbe Sarebbe interessante Sarebbe interessante Sarebbe interessante Quale freccia? Ma quella viola siamo noi, Neko Se intendi quella freccia Ragazzi siamo sicuri che ho capito bene Che sta qui il cartivone Stanno venendo i dubbi Sono sincera E' molto strano Ah ma che ti porta In quell'altra zona La freccia bianca Allora Mi ricontro un attimo le richieste Sì è arrivato nel piano superiore Strano Veramente molto molto strano Vabbè l'effetto è che potrei andare di qua No Allora Secondo me il problema più grave di questa Cioè di queste progetti mi è suggerire secondarie E che ti fanno le gironzolate come un imbecille Dai come fuga non è riuscita Dai Eh ma io voglio che allungano il brodo Ti ricordo rubi che facendo solo le missioni principali Il gioco non è molto lungo Io solo che questa missione la volevo fare per completezza Ma non trovo niente Oddio ma che cazzo è questo? Ma questo lo voglio reclutare Uccello nobile Sì rubi visto Il serpennuto Dai ma me lo fanno apparire alle spalle Ma com'è possibile Raga a sto punto penso che ci conviene Proseguire Vedi gioco c'era un nemico Ecco No ragazzi proseguiamo Eh vedo che non appare Peccato peccato L'avrei voluto affrontare Anche per capire Che demone avremmo affrontato Oh poi magari più avanti si risale un'altra volta Sì lo stronzo intanto non mi faceva vedere Ecco Boss fight Boss boss fight Bello lì leggere ondata di calore Non aspettate no devo mettere le cure Ecco se poi mi serve questo Eh Eh vai vai Io spero che non sia debola al ghiaccio Cazzo ma che affrontiamo Eh il pesciolone grosso Come cazzo sei vestito Un altro Sidonia morto Rube visto Mamma mia Ce l'hanno a morte con lui I sviluppatori Ce l'hanno a morte con lui E non l'abbiamo ucciso noi Sì Sì E che taglio di capelli E che taglio di capelli Sì E che taglio di capelli Sì Bello allora perché ridete Possiamo non combattere Puoi rinunciare a manghezzo Ma rispondo la prima Anche se vedo che con Quell'altra tizia Siamo messi molto male Mi faccio da culo Esattamente Ma quindi Manghezzo non l'hanno trovato Ma vorrei combattere Per forza con lui Sì Ah Zip 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 E se mi chiede un po' di due, potrebbe essere riuscire a farlo, ma questo è il mio... Il mio credito? Io credo che il mondo di la società della società di fantom, ma anche il mondo che crea il mondo di fantom, è un mondo che mi ha pensato che quando ero un mondo che mi ha ricordato, e anche se in questo modo, mi chiedevo a farlo di giudicare i nostri amici per farlo. Uccidere innocenti per realizzare il proprio sogno Proprio pezzo di merda Ciao Yora alla prossima Grazie per la compagnia Sacroso benvenuta C'è un po' di meno Eppure ma anche Ma sia Tanto sappiamo benissimo che ora lo uccideremo E poi il suo amico piangerà lacrime amare Suo arroba Sera su cross Ah qua c'è proprio una cazza Hai visto Saccarosa il tuo sbando Proprio con la faccia da culo Sì è lui Quello che l'avevo ucciso Ma adesso sarà lui a morire Chi perde dovrà offrire una birra all'altro Eh ma all'altro mondo Ah combattono solo loro due Ma quindi non c'è battaglia Ma davvero Sì va vero Non ci voglio credere Oddio Ma è evocato una gnoccolona Ma Ah ok raga meno male Pensavo che stava solo Arrov Ci stanno i piedi Ok demonalati Buonissimo Pazzo blocco il veleno La stronza Se comunque si capiva Che possiamo eliminare prima Quei due Aiaiaiaiai Cazzo non so se riusciremo a vincere Ok con invece Debo la zio Dite che ghiaccio serviva Ok ma che quello ne si salarmi da fuoco mettiamo l'attacco di tutti vedo lei che sta dormendo cazzo ragazzi ma questo è proprio forte porca puttana porca puttana ragazzi ma togliamo troppo poco poi secondo me ma non possiamo vincere no e qua ora bisogna pensare ad una strategia si ma ha aperto peggio di peggio di una noce di cocco addirittura creare nuovi demoni ma proviamo no questo mi vuole far fare altre missioni ah questo si può rivedere fosse all'infinito eh Matt guarda bella domanda allora in realtà volevo portare persona 5 perché esce su pc a ottobre e dopo di che puoi fare vabbè persona 4 persona 3 e persona 2 volendo e persona 1 non so se farlo e poi onestamente vorrei fare anche i vari Yakuza che ho giocato soltanto allo 0 e al primo e li vorrei portare tutti quanti vabbè regà andiamo innanzitutto a fare fusioni che vi devo dire ma come da quello è come consigliate bellissimo che praticamente è Jack Frost che fa il cosplay di Ringo ragazzi Jack Frost che fa la trap ma che è? ma che raggio anima cazzo questo rianima un alleato te ne pure ma zio durante una treggenda avviene ciò ma la treggenda non è quando si fanno le combo no? e poi si fa quell'attacco speciale dovrebbe essere quella la treggenda si che è passato così tanto tempo che mi sono già dimenticato e questo però sarebbe utile questo è veramente utile ma questa potrei però ottenerla a gratis grazie al ad lc ok cioè questo qua lo potrei già prendere utilizzare no ragazzi veramente rompiamo il gioco ma io comunque questa qui me la prendo si vai vai la faceva fare la fusione per curiosità si ragazzi tanto avrei potuto comunque fare la fusione si avrei dovuto aspettare un livello per fare la fusione ma mi rompo proprio le palle ciao notte Krai la prossima ma ci sono quelle là a destra tra le consigliate ma che è questo? frost b hawai ecco ad esempio consigliano lui questa però è utile e questa è utile sì cazzo che questa mi serve e questa serve come? si diffonderei il vecchietto con quel piccione ma in effetti quel piccione non l'abbiamo però masterato che palle ma ragazzi poi al massimo aspetta si può fare così un attimo no? mi evoca bene potrei prendere un'altra ma a me quanto cavolo costa vabbè ragazzi la fusione la faccio lo stesso perché più che altro vorrei finire la live dopo aver sconfitto quello stronzo angelo bondage porca miseria ragazzi facciamo sta fusione allora abilità da ereditare sicuro oppure patra c'è tutto praticamente vabbè ragazzi non avevo fatto sta roba vabbè ma mi può capitare un altro piccione ragazzi ragazzi ma si può evocare o sbaglio eh raga scusate non si può comunque evocare cioè cosa mi sarebbe cambiato eh beh il piccione non l'ho mai ci non l'ho mai usato rubi il piccione capito cazzo il vero assoluto dovevo registrare pure pure il oh porca di quella miseria beh beh ormai l'ho fatto raga troppo tarde più che altro il vecchietto potevo registrarlo forse vabbè insomma tanto eh ma c'è pure questa ragazzi che è mi conviene cambiare allora siamo messi così qua abbiamo addirittura ghiaccio 3 ok registrare sempre ok ok grazie per le info comunque ok figa cosa hai preparato di nuovo porridge e i funghi da figa tanto figa ti darà un dono un pasto originale che hai ideato figa inventa nuovi sapori combinanti passi che hai assaggiato in passato proviamo proviamolo si chiama zosui ed è zuppa di riso e tanto vedi hamburger la lingua scotta di mangiarlo lentamente mentre si raffredda eh lingua purtroppo è troppo ingorda i dolci e la pana di miclio mamma che ricordi raga quella serie su zessina volevo un attimo livellare velocemente per imparare qualabilità di cura per un mato è un peccato andiamo con ma zio ringraziamo jack frost che fa il cosplay azz quando ho più quell'abilità non me lo aspettavo e come tu non ricordavi l'annunzatore con il Oh, ma non è che l'abbiamo ucciso? Ah, non avevi i piedi? Oddio Ah, non conviene fare automatico, ragazzo C'è solo una maria di minchiate E fa anche il contrattacco, no! Che culo, non l'ha fatta a lei Ah, ovvio! Essendo un mappo, tutto è debolo al ghiaccio Invalidi bonus di tutti i nemici Boh, non è che mi ispiri più di tanto Ragazzi, può servire questo Decaggia, secondo voi? Ah, è utile? Va bene Sì, togliamo Difesa Kuzushin Però abbiamo l'altro che pure può fare l'aumentata d'attacco a tutti Sì, sì Togliamo questo, allora, dai Oh, ma è un sacco di abilità, sto porcellino d'Indie No, mannaggia Ah, no, che siamo andati nel piano giusto No, volevo livellare un pochettino l'angioletto del bondage, raga Ah, l'abbiamo appena trovata Oh, lo chiamate, raga Non uno, non due, ben tre Andiamo con Mazzio Ah, lui riflette l'attacco Penso un po' Ah, lui riflette Però non è che fa poco danno Ah Ah, l'abbè Sì, non puoi dire Tutto Ah Oh Oh Uff O Infermente blocks P convergence Oh 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 Ok, è rimasto solo lui Eh, un altro mazzio Yes Ma poi mettiamo attacco automatico Sì, lo uccidiamo in fretta Mamma, quanta roba Ok, l'angelo è quasi al 14 Quindi imparerà quella cura di gruppo Oh, lalla Questa dovrebbe essere l'ultima battaglia che dovremmo fare Nooo, tre Jack Frost No, ragazzi, me ne scappo In questa situazione non mi conviene proprio Lo so che Ruby avrebbe preferito giocare con loro Ma io onestamente riesco a stare per i cacchi miei Oh, ragazzi, è ritornato Che culo L'abbiamo recuperato in fretta Ah, per il tuo piacere Ruby, guarda qui Guarda come sculetta Eh? Qualità, quelle chiappette Qualità Oddio, ma mica è lui No, non sono i conigli Che mi riesca a culla che avevano fatto piangere No, ma non sono loro Ok, meno male che siamo scappati Meno male che siamo scappati Blockabilità è il piccione, vediamo Per il momento nulla di che Però magari potrebbe sorprenderci Infatti non penso che sono i conigli Sarebbe troppo strano Che palla Ancora si jack frost Ha ridato i biglianci Cioè non è manco un'abilità Che mi permette di fare il fuoco A ove Eh, vabbè Qua di male in peggio Mannaccia Proviamo così, va Ah, bello L'abbiamo one shottato E questo mi piace Ti me lo sognerò la notte Matt Cioè invece le vere tante belle alice No Jack frost Posso giocare, grazie No, ancora no Magari Sì Sì, qua mi devo venire a curare Eh, me la fanno sudare alice I stronzi Ho bloccato anche un obiettivo Non so perché Cato che non è debole Ok, vittoria Buono E ora la nuova abilità Medica ci serve Per me tra furi si può togliere Ragazzi Ma non serve a niente Oh, imbaro pure mazzano Più avanti Ma penso un po' Diventa anche più utile Ma aspettavo Odessamente Una maggiore cura Eh, vuol dire che si fa desiderare la stronzetta Ok, raga Andiamo a fare sta battaglia Ti prego Fa che riesca Al primo colpo Sì, diciamo Al secondo colpo E' quello che sto a fare Ubi Perché qua vedo La situazione non è proprio una delle migliori Andiamo con i pasti Mh, aumenta le chance di critico Aspetta ragazzi Poi questa è che aumentiamo L'effetto di guarigione Perché qua come l'impressione Che dovremmo curare tanto Questo è un giro Ole Possiamo andare Allora Io direi di controllare anche un po' l'equipaggiamento Che possiamo dare ai nostri evocatori No? Allora, lei cos'ha? Impedisce di subire sonno Che in effetti ci sta Perché quella stronza Se vi ricordate Può far dormire Invece Resiste a tutte le alterazioni di stato A questo punto però Io lo darei a lei Perché poi Ecco qui I PM vengono ripristinati Minimamente E dici di subire veleno Sì? Dovrei andare anche nei negozi In effetti Da perché non faccio shopping Raga andiamo a vedere Allora Vengono a vedere Vengono a vedere Vengono a vedere Raga perché se qualcuno Si addormenta È la fine È la fine Ok Ok Ora Siamo pronti e carichi Per affrontare Quei maledetto Stronzo Aspetta Fammi un attimo Qui Qua leggo nuovo Non c'è qualche novità Treggendo Giusto Ma non stai sfruttando Al meglio il suo potenziale Azz A sto punto sarei dovuta andare Prima da lei Ci vorranno pezzi speciali A quel che ritocca Ma potrei procurarti Delle abilità pazzesche Cose che potrebbero Farti vincere Delle battaglie Abilità comandante Ma Ragazzi Leggete L'abilità conversione Ti permette di cambiare Demone Durante una battaglia Oh mio dio Un'ottimizza combo Il tumore di demoni Della combo aumenta Da Raga E ora Sono andato da questa Stronzona Ah Abbiamo bisogno anche Di ricordo totem Più alcune altre parti Per dei potenziamenti Specifici Parlingo può installare Dei potenziamenti speciali E a sua combo Questi potenziamenti Possono sbloccare Diverse abilità Comandante Ok Dice Sbloccare Il più possibile Mannaccia La misera Mannaccia Eccolo Raga Conversione Porca Cotoletta Porca Misera No La conversione Sicura Raga Vedete Si possono aumentare Pure Che ne so L'attacco Però Non so se Le comp Hanno Dico Degli slot Limitati Però mi sa Che hanno Slot Infiniti Forse Ah Vedete Ognuno può imparare Cose specifiche Per esempio Solo lei Può imparare Queste due Abilità speciali Ok 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 Questo non sarebbe male Aumentare La guarigione Si dovrò mettere A farmare Un bel po Ecco Già qui vedo Chip scontato Il velo Di uno Yoma Per arrivare A guarigione B Vorrei fare Ghiaccio A lui Un clever Di colpo Sì regà Allora io penso Che a farmare Lo farò comunque Non in live Perché vedete Qua scivolgono Tantissimi Materiali Sì c'è molto Farming Hai visto A me pare Che c'è una novità Pure qua 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 ci vuole Il legno aromatico E auguri Auguri Vabbè ragazzi Siamo pronti E Andiamo No Ruby Secondo me Devo fare anche Un bel po Di missioni Secondarie Per farmare I materiali Ma non Vabbè ma di solito Cioè il farming È pesante Ci sta anche Nei Shin Megami Tensei Ok Dove dove Ah di qua Allora Ce la dovremmo fare Che non posso Schippare Direttamente L'Ano Forse così Ma facciamo Cosa Mentiamo un po' Lei che è molto Bassa L'Ano 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 Ok ora dice Le stesse cose Sì sì Salta 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 Ora Dove Ammazzare Innanzitutto Quella strunza Le abilità Dei comandare Sono state Sbloccate Dopo che Tascosto Il numero Di turni Possono essere Attivate Premendo R1 Ok Bisogna fare Anche attenzione Cambi il demone Equipaggiato Di un alleato Comunque ragazzi Ho più sta roba Veramente ho più Di un alleato Ok Io Di un alleato Di un alleato Chie Partiamo Una Vabbè, quello del cambio è finito Il problema è l'altro abilità comandante Che stronza quella lei Ma porca miseria Era come aveva detto Ruby Che stronza Però a me non te lo riflette Almeno quella Ai 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 Allora ragazzi, però adesso la battaglia Si sta andando meglio Mi sa che me la so chiamata La morte Che non mi sono stato zitto Ah, c'è il giusto. dobbiamo curare a tutti quanti mi conviene cambiare a lei ma sarà debole al vento quella grandissima stronza eh bella domanda bella domanda che ci potrei provare proviamoci sto curioso ok eh come aveva detto Ruby però sta morendo eh eh vai con la cura noo perché ring fuori combattimento cazzo cioè lei è la più importante cioè lei non può che fare allora un attimo comunque intanto la canzoncina è molto bella ce l'ho solo uno con aghi porca di serio che situazione di merda eh ragazzi deve ritornare col draghetto a sto punto ma se fosse lui col risucchio vitale ah si proviamo eh almeno questo vince che guarda la battaglia è già bella tosta che questo attacco due volte è attacco due volte o di lo pot attacco due volte queste con mi Non otteniamo nulla Così C'è la capa è assurda che attacco Deve volte questo E lo sto pensando Ruby però porca miseria Vai Forse ci muore No per pochissimo È pochissimo Ti prego non curarti Cazzo Proprio lei l'ha fatta Ringo si è salvata a culo A culo A culo Sì dai è morta dai Madonna cazzo è ucciso Ok Ma ammazziamo l'altro demone Eh intanto C'è anche Dpm No non dirò saccaroso non sia mai E penso che adesso Possiamo cambiare E non ci voglio proprio credere Che non abbiamo nessun altro con zio Madonna mia Che grandissima sofferenza Sì Non ci voglio dire Non ci voglio dire Questa è il mio La Questa è la Questa è la Questa è la E questo ha fatto male Eh ma non posso Eh ma non possiamo adesso morire Come degli stronzi No ragazzi È assurdo È assurdo Quindi possono evocare Dopo 8 turni Bellissimo Sì siamo morti un'altra volta Mannaggia No ragazzi Che cazzo Mi resta affan' No ragazzi Sì Poi che non ha meno due aghi C'è un nome che non ha meno due Cioè ragazzi devo ritornare praticamente al circo Mannaggia Mannaggia Sì zio e aghi Mannaggia La misera Sì 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 Ma Questo fa il mazzio e annulla sonno Muro elettrico Ok Ah abbiamo anche il babau qui È bello Eh la sua meta Però volevo almeno fine a live sconfiggendo il suo stronzo Mannaggia Odio ragazzi ma mo che ci ho fatto Ho fatto caso Ho anche speso un sacco di soldi Che bello Quindi praticamente non possiamo ucciderlo in queste condizioni Ma scusate lui che attacchi faceva Fa attacchi con armi da fuoco giusto Sì lui fa attacchi con armi da fuoco mi sembra E allora io praticamente ho fatto una cazzata Qua ci sta schiva forza Ma io mi ricordo che avevo un cazzo di demone del cavolo Che aveva tipo Schiva Armi da fuoco Ma il problema Chi era? Mio Giaco schiva Giaco schiva è tantissima roba Ah Pure lui aveva schiva Pure lui aveva schiva fuoco Cioè ragazzi mo serviva Io non ci voglio credere Ragazzi facciamo una cosa Evochiamo questo Livello 90 E facciamo fuori tutti quanti Così finiamo il gioco in una live soltanto Ok Che dici? Take Minakata Ah beh lo puoi vedere Satana Fantastico ragazzi Satana Porca miseria Sì vabbè Addirittura Satana Andiamo a evocar qui Take Minakata Ma dovrebbe apparirmi qua Io non lo vedo però Cioè L'omino del sonno Guardate che In questa battaglia Non mi servirà un cavolo Le fusioni speciali Ah è lì Porca miseria Fatene contro attacco Ah è vero sta lì Hai ragione Eh ma è elettricità però No armi da fuoco Cioè ci vorrebbe pure qualcosa Che possa riflettere Eh Vabbè ragazzi Facciamo una cosa Ah si attacchifico Mi fa vedere Hai ragione però Hai ragione Hai ragione Hai ragione Vabbè Ma no è che stiamo andando a fondere Scusate un attimo Ah ok Ok quei tre Ah ci si registra tutti ragazzi Panculo Ce la registra tutti Ah ecco perché Perché ci sta anche il costo Vabbè ragazzi Mo lo faccio la fusione Allora Ma zio Sicuro al 100% Sicurissimo Schiva fisici Allora Allora Andate pure aghi Gli attacchi fisici Gli attacchi Ah gli attacchi forza Sono quelli Sono quelli verdi Raga Si sono quelli verdi E quindi Va bene in questa Battaglia Contro a quello là Che vola Quel tengo Eh si Ma io sinceramente Poi Eh no ma là Non sono attacchi fisici Mi pare A meno in questa Battaglia No facciamo così Dai Ah Tarugaggio è meglio Si si Ok rega Eh andiamo Tanto continua A consigliarmi Quel maledetto Dragone Allora Mo lo diamo a lui Il fatto che lui Possa comunque evitare Ecco il problema E' quell'altra Debolezza Però ragazzi Eh Però Di aumento Fuoco Lo mettiamo Si 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 Io penso che qua Convenga comunque Fare Delle live Dopo aver farmato Un bel po' Aspetta Mi notte di cosa Posso prendere Da cibo Ok ragazzi Questa potrebbe Servirmi Come un DPM Degli alleati Tanto qua Abbiamo finito i soldi Che bello Che bello Spero che Si Di credimento A tutti Ah la tapioca Era popolare Anche quando Era un giovane Punk Di città La crepe Sarebbe quella Sottile Giusto E che differenza C'è tra i panchecchi E tossa Alla francese Mi ricordo Il giorno in cui Abbiamo conosciuto Nana Quando è svenuta Perché aveva Tantissima fame Ma ragazzi Voi provo L'ultima volta Ovviamente Se non ce la faccio Mi metterò A farmare Sinceramente Mi aspettavo Di meglio Come busta Non è già Lo so Di fare Altra figura Di merda I sui gioco Sono volate Però Vabbè Sicuramente I rubi Volano A chi Il gioco Piace Ovvio Ovvio Grazie a tutti Ti ne sa c'è la reazione che ho qui Ah in effetti potevo fare l'abilità per aumentare il danno di tutti Non ci ho pensato Con Decage Chi l'aveva Decage Ok ce l'aveva il porcellino d'India qui Ok Sì dopo provo Vediamo un po' Ah no non me lo fa proprio fare Ruby Oh Ah 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 Perchè dovrebbe aver fatto una cazzata Da veramente all'attacco a tutti Buono, 71 di critico E non legge che c'è scritto gioco scorretto Ah, poi tiro elettrico Però in effetti Ok ragazzi, però la battaglia sta andando Secondo me è leggermente meglio rispetto all'altra Insomma, si è curata la grande stronza Senza pietà Sììììììììììììììììñ E ora ammazziamo l'altro Dai ragazzi ha fatto due colpi a lei Ma per favore Dai Dai ragazzi ma come cazzo ha fatto a mancarlo Ma per cortesia Ma che sfiga Che sfiga C'è una sfiga allucinante Infatti per questo Rinza cerco di affrettarmi Ok inutile mettere i malus a volte Che questo vedo che li toghi spesso Qu'è? 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 Ma sei sicuro rubi di questa cosa? Eh ma la suonerò stanotte come? Eh ma la suonerò stanotte come? Aspetta 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 No no penso che la vio cazzo l'avrebbe fatto lo stesso Vabbè Devo anche ammettere che quello sta crefando aspetta Goccia di chakra Qua si consuma un IPM che è una bellezza Un aumento del potere Ragazzi questa è una difficoltà normale Voglio dire solo questa Qu'è? 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 Ah, lui in questo momento è immune Ok, diciamo qui No, brata, comenta Che starò, bambò No No Ragazzi non ci voglio credere Oh, puttana Annaccia la puttana No, vabbè raga Vabbè, non voglio sprecare Accetto la sconfitta con serenità Mannaggia Grazie a tutti